Domenica 7 ottobre, buongiorno e benvenuti al nostro Tg del mattino. La sovrintendenza regionale ha riproposto il vincolo paesaggistico sull'intero territorio comunale di Isernia, un atto grave che colpirà ancora di più la già modesta attività delle costruzioni nel capologo Pentro in grave crisi da anni. Per questo motivo l'amministrazione d'Apollonio ha deciso di ricorrere al TAR contro il decreto appena emesso dal Ministero dei Beni Culturali, il servizio è di Enzo Di Gaetano. Il Comune di Isernia ha deciso di ricorrere al TAR contro il decreto con cui la sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise ha riproposto il vincolo paesaggistico generalizzato sull'intero territorio di Isernia. La decisione del Comune è stata assunta dopo aver consultato i propri uffici, legale e tecnico, e dopo aver valutato accuratamente le possibili problematiche derivanti dal vincolo. L'ente di Palazzo San Francesco ha anche ritenuto utile conoscere su tale questione l'orientamento della Regione Molise che, nei giorni passati, durante un incontro, tra il Vice Sindaco Cesare Pietrangelo e il rappresentante dell'esecutivo regionale, Roberto Di Baggio, ha condiviso la scelta fatta dal Comune. Quella del ricorso è una decisione importante e necessaria, poiché per anni il vincolo è inciso in maniera negativa sull'edilizia, appesandendo oltremodo le procedure. Con la riproposizione della limitazione paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali tramite la sovrintendenza ha riavviato, oltre ogni scadenza prevista da una recente sentenza del Consiglio di Stato, una procedura risalente a molto tempo fa, ribadendo un vingolo generalizzato, senza alcun preliminare studio di dettaglio e non tenendo conto delle nuove normative né delle mutate esigenze del territorio e dei suoi abitanti. Sottoporre l'intera area di Isernia a vincolo paesaggistico significa blocco delle procedure edilizie, sovraccarico di lavoro per le strutture comunali e regionali, aumento dei costi gravanti sugli utenti per la progettazione e inutili lungaggini burocratiche. Per scongiurare tutto ciò il Vice Sindaco Pietrangelo, durante l'incontro con l'assessore di Baggio, ha colto l'occasione per auspicare la sollecita conclusione dello studio per la redazione del piano paesistico regionale, già in fase di avanzata elaborazione. L'amministrazione comunale di Isernia è convinta che il ricorso al TAR possa significare un'effettiva ripresa dell'edilizia locale e sottolinea come il capoluogo vada senz'altro tutelato paesaggisticamente, ma dopo uno studio mirato e responsabile e non con fredde misure di salvaguardia che non contribuiscono efficacemente alla tutela del paesaggio. Controlli dell'udito e visite gratuite grazie alla campagna nazionale Nonno Ascoltami. Personale esperto e qualificato sarà a disposizione tutta la giornata, oggi in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso. È stata un'opportunità per fare uno screening di base dei disturbi uditivi e conoscere anche le iniziative dell'Associazione. L'evento, patrocinato dal Ministero della Salute, è organizzato in collaborazione con l'ASREM e il reparto di Otorino, Laringo e Atria, diretto dal dottor Giovanni Serafini, partner locale del progetto, giunto alla nona edizione, l'Istituto Acustico Maico. In occasione della terza edizione della settimana nazionale della dislessia a Isernia, è stato organizzato un incontro riservato a genitori e docenti, finalizzato a mettere in campo iniziative efficaci per affrontare in maniera più incisiva questo disturbo, soprattutto a scuola. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. La gestione del disturbo tra clinica didattica e prospettive normative. Questo è il tema scelto per l'incontro organizzato all'Istituto Cuoco di Sernia in occasione della settimana nazionale della dislessia. Il convegno, rivolto in particolare ai genitori e ai docenti, è stato promosso non solo per abbattere luoghi comuni e false convinzioni, ma anche e soprattutto per dare, attraverso le famiglie e il mondo della scuola, risposte efficaci ai bambini. La missione dell'Associazione Italiana di Slessia è proprio questa, ha ricordato la presidente della sezione di Campobasso, Donatella Palmieri. La missione dell'Associazione Italiana di Slessia è proprio quella di sensibilizzare l'opinione comune, anche il mondo della scuola e i servizi sanitari, di potenziare la formazione nelle scuole, principalmente nelle scuole, e offrire proprio un punto di riferimento per i genitori, gli insegnanti, ma anche i ragazzi stessi. Quale consiglio date ai genitori e agli insegnanti? Ovviamente quello di non sentirsi assolutamente soli, di potersi rivolgere all'Associazione, in quanto condividiamo proprio le esperienze e ovviamente di segnalare il prima possibile queste difficoltà. Le scuole sono molto molto collaborative ed è stato attuato anche l'anno scorso e quest'anno verranno reattivati gli sportelli d'ascolto, che sono aperti a genitori, insegnanti, agli alunni stessi, quindi è un progetto che riattiveremo a breve. Per Angela Di Burra, nella doppia veste di insegnante e psicologa, la dislessia va affrontata sin da subito, e cioè a partire dalla scuola dell'infanzia. Sicuramente la cosa più importante è poter avviare dei percorsi di osservazione già dalla scuola dell'infanzia, con dei laboratori di potenziamento per attivare tutte quelle che sono le potenzialità dei bambini e consentire un passaggio sereno nella scuola primaria. Si lavora sui precursori dell'apprendimento, quindi la memoria, l'attenzione, l'orientamento, le prassie, ma anche abilità più specifiche come quelle della lettoscrittura e del calcolo. Sono tutte abilità che vanno avviate per tempo e che riguardano un po' tutti i bambini. Certamente ne beneficiano i bambini con difficoltà. È tutto, termina qui il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Con Nicola Passarelli in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. Sanità, la bufala del commissario ad acta, sistema bloccato da cinque mesi mentre i molisani vanno a curarsi fuori regione. L'articolo è firmato da Giovanni Minicozzi. Poi olio d'oliva, tonfo della produzione nazionale, il Molise resiste. Isernia città cardioprotetta al via i corsi per usare il defibrillatore donato dalla Freerunners. Termoli, incongruenze nel bando per assumere un dirigente di Michele va in procura. Il progetto sul tunnel in consiglio regionale, venerdì seduta monotematica. Pozzilli, neuromed, importante scoperta sul meccanismo di sviluppo del cervelletto. Santissimo Rosario, il futuro passa per l'accordo di confine con la Campania. Ricostruzione, il Tardaragione, all'ordine degli architetti, legittimi i tagli alle tariffe professionali. Ci sono poi le altre notizie sul giornaledelmolise.it. Vediamo adesso come titola primo piano Molise. GAM sul tavolo, cassa integrazione e rilancio. Domani pomeriggio i lavoratori sono stati convocati dall'assessore Mazzuto. Il 4 novembre scadono gli ammortizzatori sociali. La regione è pronta a coprire altri sei mesi in attesa che il Governo nazionale intervenga con la prossima finanziaria. E poi Limosano isolato. Ponticello crollato da sette mesi l'Odissea lungo la provinciale più disastrata del Molise. L'omicidio in Sudafrica. Larino piange, Raffaele e Mastro Giuseppe. Le sue spoglie oggi tornano in città. Termoli tunnel, l'ultima parola a Palazzo Daimmo. Consiglio regionale monotematico il 12 ottobre. E poi Campobasso di Slessia. Oggi la giornata di sensibilizzazione. L'operazione dei carabinieri di Campobasso. Clonavano vaglia apostali e poi li cambiavano in banca grazie a un boianese. Otto le denunce a finire nei guai. Cinque molisani e tre campani sono tutti accusati di riciclaggio. San Pietro Avellana, Orsa Peppina scende in paese e fa scorta di polli e conigli. E poi il punto senza barriere architettoniche. Una battaglia di civiltà e libertà. Il punto è di Salvatore Micone, il presidente del Consiglio regionale. Poi calcio serie D. Le tre molisane giocano in trasferta. Lupi a Iesi, Iserni e Samignano. Per Lagnone c'è la San Maurese. Eccellenza pari per Venafro e Boiano. In vetta sale pure il Treppini. E calcio a cinque. Brindisi al debutto per le Campobassane. Bottino pieno. Vediamo adesso il quotidiano del Molise. come titola Corecom. L'ordine dei giornalisti si dice contrario alle nomine. La presidente Pinapetta dice il fatto che non ci sia un rappresentante di categoria crea un danno non indifferente. Vediamo le altre notizie. e Boiano soldi sporchi ripuliti con vaglia clonati. Otto le denunce. Pozzilli e Rambiente reagisce alle accuse di inquinamento. E Alto Molise e l'orsa Peppina gradisce il menù del pollaio. Assassinato in Sudafrica. Oggi le spoglie tornano a Larino. Termoli, tunnel, il futuro dell'opera ora è nelle mani del Consiglio regionale. Poi vedete questa foto di Maria Grazia Cucinotta. Fa risuonare una campana di agnone. Apre il villaggio col diretti. L'evento a Roma. Decreto concretezza. Toma critica il provvedimento in conferenza delle regioni. Agroalimentare. Il tartufo molisano piace. Si prepara al riconoscimento unesco. Poi per lo sport. Lega nazionale dilettanti. L'Assemblea nazionale rilancia Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC. I lupi puntano la preda Iesina. I Sernia in esterna a Savignano. Agnone ostacolo San Maurese. Calcio a 5. Sordi con i fiocchi per il CLN Cus Molise. 5 a 2 a Fano. E poi la Chaminade 2 a 1 sull'Ancona. Vediamo adesso come titolo a futuro Molise. Internazionalizzazione PMI. Delegazione della Repubblica Ceca in Molise. Nomine core con petta. Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise. Dice che nessun esperto del settore è un danno non indifferente. Variante al piano regolatore del Comune di Termoli. Convocata seduta monotematica del Consiglio regionale per venerdì 12 ottobre. La questione dunque del tunnel. Poi riciclavano vagli apostali clonati. Denunciate 8 persone dai carabinieri di Campobasso. Isernia e il questore riceve Daniele Donofrio, atleta delle Fiamme Oro, vincitore della Corrisernia 2018. Poi Corecom, ancora Corecom Santimone. Ordine dei giornalisti. Il consigliere nazionale dice nomi in espressione di vecchia politica. I quotidiani nazionali. Adesso vediamo come titola la Repubblica. La beffa fiscale, tasse più alte per 3,2 milioni di partite IVA. Colpiti i professionisti e imprese, oltre 65 mila euro. Salvini e Di Maio. Fra sei mesi quest'Unione Europea sarà finita. Così dicono poi c'è l'editoriale di Eugenio Scalfari. Il pericolo per l'euro e la riscossa democratica. Marta e gli altri ventenni che si inventano marina. Emissione Salvare Vite Umane, reportage dalla nave Mare Ionio a largo della Libia. E poi il concorso del Premier. Il professor Conte e Belacattedra quando lavorava con chi lo promosse. In piazza d'Ariace a Milano per il sindaco dell'accoglienza. La solidarietà a Lucano. Vediamo adesso come titola il Corriere della Sera. Di Maio attacca. Unione Europea si cambia. Juncker, situazione difficile per l'Italia. Salvini, sparirete fra pochi mesi. Lo scontro dunque. Intervista con il Vice Premier. Andiamo avanti con quota 2,4%. E gli squalici azzannano. Fisco le misure, rottamazione fino al 2024. Poi l'effetto rischio sui derivati. Il costo degli anti-default. Ferruccio De Bortoli scrive. Il Premier è il ruolo da giocare. I possibili segnali. Udine è un'altra vittima di una droga sempre più diffusa nel nord-est. Lì c'è l'eroina gialla. Così si muore a 16 anni. C'è la foto della 16enne uccisa da un overdose di eroina gialla. Dopo la scuola con lei c'era il fidanzato. È morta nei bagni della stazione di Udine. Questa tristissima storia. Poi negozi per aprire 65 adempimenti con 26 enti diversi. il dossier sulla burocrazia in Italia. Dal Corriere della Sera passiamo a vedere la prima pagina della stampa. Toninelli, il ministro Toninelli. Nel decreto mettiamo i risarcimento per gli sfollati del ponte. Ecco i dettagli del nuovo condono previsto dal DEF. Si pagherà in 5 anni. Genova, il ministro dei Trasporti, dice Toti lavori e smetta di fare politica. In 5.000 sfilano per il sindaco di Riace. Liberate, Mimmo, c'è una foto in piazza Riace per il sindaco agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione. Vediamo adesso la prima pagina del Fatto Quotidiano. Condono da 11 miliardi. DEF nella bozza della manovra fiscale è prevista la rottamazione delle cartelle. Gli evasori dovranno pagare l'intera tassa non versata ma senza amore né multe. Di Maio e Salvini tengono alto lo scontro con l'Unione Europea. non abbiamo piani B. E qui c'è la foto di Conte, Di Maio e del ministro Tria. Vediamo poi queste altre notizie. Legge Spot, reato inesistente, lega e legittima difesa. Tanti tweet per nulla. Solo due processi all'anno. Mediaset insegue FCA e studia. Il trasloco e le tasse in Olanda. Altro titolo del Fatto Quotidiano. Vediamo adesso come titolo è il messaggero. Pensioni anticipate di vieto di lavoro. Manovra uscite a 62 anni. Spunta il no al cumulo dei redditi. Ecco lo scontrino elettronico. Juncker, Italia, situazione difficile. Di Maio quest'Unione Europea è finita. Colloquio. Giorgetti Draghi. E poi i negozi multietnici. Legge per dire no a insegne straniere. Proposta leghista. Usare solo l'italiano. Idiomi dell'Unione Europea. Esame linguistico obbligatorio per i commercianti. Dal messaggero passiamo al libero. La Lega vola al 34%. In una settimana ha guadagnato quasi un punto. Rilevazione Ipsos Corriere. Certifica che lo scontro con l'Unione Europea e le polemiche sulla manovra fanno bene a Salvini e male al Movimento 5 Stelle. La sondaggista Ghisleri dice Matteo ruba voti a tutti e recupera gli astenuti. Cresce perché dimostra che sa fare e crea aspettativa. Poi dopo aver eliminato il tema di storia eliminiamo la scuola. Scrive Vittorio Feltri. Continua pubblica distruzione. Poi Maria Luisa Trussardi ha creato un marchio dolce di lusso. La professoressa della moda passa al cioccolato. Il sole 24 ore, il quotidiano economico, un miliardo per le PMI, formazione 4.0 in bilico. Manovra nessun rifinanziamento per il piano Made in Italy. Nel DEF niente sul sud, nodo coperture da tagli e sconti 5 miliardi. Di nuovo braccio di ferno tra Governo e Unione Europea. C'è l'analisi corsa contro il tempo per il via libera delle Camere. Poi all'Italia piano da 2 miliardi con ingresso di FS e MES di Ferrovie e Ministero. Vediamo come titola la verità. Boeri difende la sua pensione ma assalta le nostre e il Governo. I piani del Presidente Inps. Il capo della Previdenza italiana studia la maxistangata. Ricalcolo di tutti i trattamenti di anzianità cambiando retroattivamente l'età del ritiro. L'idea è spaccare Lega e Movimento 5 Stelle. Intanto salva i cumuli, scrive Giacomo Amadori e lui avrà due assegni. Dopo 40 giorni il Papa Sè Desto indagherò su McCarrick e i conti in tasca a quelli che ci danno pagelle mentre continua lo scontro Unione Europea-Italia, storie e affari delle agenzie di rating che ci faranno ballare, è l'altro articolo della verità. Passiamo adesso a vedere la prima pagina di Avvenire. Il Papa, la Chiesa si fida dei giovani sugli abusi, sempre la verità, mai più coperture. Nell'incontro con 7.000 ragazzi, Francesco critica i populismi di moda. Nota sul caso dell'ex cardinale McCarrick, non ci sarà tolleranza. Poi Brasile tentato dall'uomo forte, voto di svolta avanti Bolsonaro, ex militare di destra. Scontrino di civiltà è il titolo in evidenza sul tempo, azzardo a 5 stelle, addio alla vecchia ricevuta di carta, sarà elettronica, in cassa si andrà col codice fiscale per partecipare alla lotteria anti-evasione. Per la riffa grillina, continua Filippo Caleri, non vale più il divieto di spot per il gioco. Sindaco arrestato fra interviste, VIP e pugno chiuso. Ariace alla sinistra è garantista, scrive ancora il tempo. Passiamo adesso al mattino di Napoli, il ritorno degli anti-abortisti. Il caso Verona è solo la punta dell'iceberg dell'impennata di attacchi contro la legge 104, boom di petizioni, medici obiettori e gruppi di preghiera. Le nuove sponde in Parlamento. Poi Napoli 20 giorni fa, l'apertura già allagato, il nuovo ospedale effetto maltempo. Dal mattino alla prima pagina del manifesto, la comune di Riace. In migliaia, nonostante il maltempo, invadono il paese dell'accoglienza in solidarietà con Mimmo Lucano e i domiciliari per reato di umanità. In marcia uomini e donne di tutte le età e molti migranti, scrive ancora il manifesto. Il sindaco si commuove e saluta dalla finestra con il pugno chiuso. La sindaca di Barcellona ha da Colau al manifesto e l'Italia che conosco non quella di Salvini. Domenico Lucano scrive il messaggio, abbiate il coraggio di restare soli. E' il messaggio del sindaco di Riace letto in piazza. Sulla manovra nessun piano, B di Maio e Salvini. Non arretriamo, questa Unione Europea è finita, dicono. Il secolo d'Italia, nessuno sopra la legge. Il monito di Mattarella non vale solo contro Salvini e il nemico politico di turno, ma per tutti e anche per chi organizza manifestazioni in favore del sindaco di Riace, scrive il secolo d'Italia. E poi immigrati in Roma vogliono il reddito di cittadinanza. Ancora ONU pensi a spose, bambine, meloni, altro che Italia. Poi Juncker torna sobrio, scrive ancora il secolo d'Italia. L'Italia non è la Grecia, dice. Vediamo adesso come titola la gazzetta sportiva. C'è la foto di Cristiano Ronaldo, non lo ferma nessuno. sotto accusa, ma CR7 segna la Juve, vince anche a Udine, 2-0 e fa 10 risultati su 10. 10 vittorie su 10 tra campionato, 8 in campionato, e Champions League, 2 vittorie su 2. Caso di presunto stupro cresce, c'è il giallo delle prove sparite. Lui in campo, lui Cristiano Ronaldo, trascina la squadra a prova di forza della Juventus. Il commento di Andrea Di Caro, la signora Caterpillar, proprio per evidenziare la forza di questa Juventus. Rimonto Namu, da 0-2 a 3-2 salvo, rischia Lopeteghi. Premier dunque, brivido United, col Newcastle, Liga, gol al 95esimo. L'Alavesch batte il Real, nuova sconfitta dunque per il Real Madrid. Intanto in premier oggi Gabbiadini aspetta Sarri, allenatore del Chelsea. Poi arrivano i giallorossi, Inzonzi apre, Gecco riparte, ora la Roma è un treno. L'Empoli sbaglia con Caputo, il rigore dell'1-1 di Francesco ringrazia. E col 2-0 va al terzo posto, la Roma dunque vince. Poi Sassuolo a San Paolo, Ancelotti vara il decimo, Napoli diverso, Allan azzurro. Carletto deve rispondere a Max, il brasiliano ignorato dalla Selesao parla con Mancini. Cagliari su, Pippo giù, Lazio, esame viola, sfida Papu, Quagliarella. Risultati e classifica della Serie A per l'Inter. Per la sesta spinge con Keita, Milan che si è l'intoccabile. E con la Gazzetta Sportiva termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise, come sempre in diretta con il telegiornale alle 14. Grazie per averci seguito, buona domenica a tutti.